vi è ancora sconosciuta cerchio k attraverso marco a cura di vb domanda adesso il cancro è una delle cause principali per cui si abbandona il corpo fisico perché guida psichica perché la legge adesso ha previsto quelle modalità per il trapasso di molti individui una delle cause maggiori del cancro vi è ancora sconosciuta ed è il danneggiamento del dna che noi vi abbiamo detto è il codice del corpo fisico il danneggiamento è dovuto alla funzione di antenna che il dna assume nei confronti delle onde elettromagnetiche